Mi spiace che siamo un po' in ritardo, ma come sapete abbiamo organizzato come se non bastasse tutto quello che è successo in questi giorni, anche questa partita di beneficenza dove siete tutti ovviamente benvenuti, però purtroppo siamo un po' di corsa. In ogni caso siamo tutti disponibili per sentirci nelle modalità che preferite. Va bene, quindi concludiamo e poi inizi tu le conclusioni. Bene, siete tutti contenti? Vi è piaciuto? Siete felici? Io devo dire in particolare, se posso, sono veramente molto felice di aver avuto con noi queste due mamme, perché, devo dire la verità, io quando ero bambina ho avuto un'altra cosina che neanche non vado a raccontarvi, non era una cosina, era una cosona. E quando ho raccontato a mia mamma che avrei ospitato molto volentieri queste due signore, mia mamma mi ha detto grazie anche da parte mia, perché fai per loro quello che io avrei voluto quella volta lì, perché quella volta lì ero sola e ho fatto tutto da sola. Per cui siamo comunque, io ringrazio tutti, veramente tutti, perché siete stati fantastici. I nostri medici sono veramente, veramente, veramente grandiosi. Sono con noi, perché questa è la cosa che noi pazienti apprezziamo tantissimo qui, perché voi siete veramente per noi, siete qui per noi, non fate, sembrerebbe che non facciate nulla proprio voi stessi, cioè voi siete proprio, ci guardate, c'è questo scambio, questo scambio, perché alla fine forse c'è uno scambio, qualcosa possiamo, qualcosa riusciamo anche noi a dare a voi, spero, perché spero che comunque la cosa sia reciproca, no? L'energia deve sempre scorrere, per cui se anche noi riusciamo a dare qualcosa a voi, è importante per noi, sicuramente. Detto questo, io veramente vi ringrazio, è stata un'esperienza meravigliosa, è stata grandiosa, spero di... anzi, ne faremo altre, perché per me è stata la prima, sono stata, scusate se mi sono impappinata, mi sono persa un po', però insomma l'emozione è stata tantissima. Io ringrazio Sumaira e Sara. Abbiamo un'opportunità veramente enorme adesso in Italia, eccogliamola con grande energia e con grande forza, perché sì, è importantissima questa cosa qua per noi, va bene? Io passo delle parole un attimino anche su Maira. Grazie mille per tutti, and yeah, thank you so much for coming, this was, I'm going to say it in English, this was our very first international patient event, so I was very nervous, but all of you came today with such lovely energy, with such great questions, so much vulnerability and honesty, so thank you for trusting us, thank you to the experts who came in from all over to take their time out of the weekend to be with us today and I hope it was something that makes you feel stronger, more connected, empowered and part of a community, so thank you and we'd love to take a photo di Gruppa. Sì, l'ha detto perfettamente, no, allora l'idea era, il saluto anch'io e poi magari se siete tutti d'accordo, magari ci chiediamo di fare una foto davanti al banner, una foto di gruppo. Sì, dai ce la facciamo sicuramente, tutti, tutti, tutti.